Cosa fa? Io passeggio e non fa niente, male, male, è una statistica, senta il mio socio Allora, non far niente accorcia la vita di 4,7 anni e quindi lei è in pensione? Io sono in pensione Si faccia riassumere, non c'è niente da fare, far niente fa male, cerchi qualcosa, faccia il mercato No, io guardi, io adesso per esempio vado 10 giorni al mare Ecco, allora si allunga la vita Ecco, allora è lì, passeggio Ma con la macchina o? No, non a piedi, perché tu qua andare fino in Liguria è lunga Però quando è in Liguria passeggia, cammina Passeggio, no ma poi soprattutto vado a mangiare Ecco la, poco Io sono una buona forchetta Eccala Niente fritti, niente grassi No, io mangio pesce, per esempio al forno Forno, bene, bravo No, 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 io mi tengo, in quello mi tengo Allora, si segni questo prefisso Il prefisso del benessere 0,5,30 Sa cosa vuol dire 0,5,30? Io lo spiego io? Ambulanza No, che ambulanza? No Allora, 0 vuol dire 0 sigarette Lei fuma? Non fuma Bravissime 5 vuol dire 5 porzioni di frutta o verdura al giorno che fa bene Lei mangia? Certo Benissimo E 30 vuol dire 30 minuti di passeggiata o di corsa che allunga la vita Io anche di più perché io lo faccio un mattino Bravissimo Non abbiamo perso 4,7 anni Bravissimo Io comunque faccio qualcosa Bravo, 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 bravo Bene, allora fate come Come si chiama già? Chi è? Lei, come si chiama? Franco Come Franco Come Franco Che vi allungate la vita Esatto Ciao Franco Ciao, ciao Ciao, ciao Solo la vita Solo la vita Certo